guarda la mia guarda la mia che c'è lei dietro è uguale l'unica cosa che quando arrivi di andar via lungo non pensare di appoggiarti o fare successo perché cadi tua deve andare perché tanto è talmente alta che va fuori in automatico se però rallenti troppo devi provo a farlo via come se fosse un piatto bravo quello se lo fai lento è facile che vai giù non va bene no devi andare via ma andare via alto a me quello lì non mi piace proprio un cacchio a me piace no guarda doppio non mi piace perché rischi se arrivi corto sul secondo che ti va giù ti ribalti è stupido devi andare veloce come lo fa lui no doppio no ma anche perché rischi per niente perché rischi per niente mi piace mi piace mi piace quindi mi piace anche il cacchio che è che è mi piace si qui è inizio che c'è qua guarda a il cacchio è la gamba lunga questa ti ha salvato quella la gamba lunga mi ha salvato stavolta si giusto